Diciamo che ci è stato proposto questo progetto tramite la nostra direzione. L'abbiamo subito accolto con piacere perché avendo due classi quinte e in queste classi si affrontano molte tematiche legate alla conoscenza dell'euro, i primi approcci che riguardano la spesa, il ricaro, il guadagno, cose così, pensavamo che potesse essere molto utile per i bambini. E anche per proprio introdurre in varie e sottoravie forme la tematica del risparmio, sapere che cosa ne pensavano loro, infatti sono emerse molte cose interessanti, diciamo ci sono stati molti spunti di lavoro e per i bambini pensiamo che la collega sia stata un'esperienza utile che possa lasciare qualcosa. Che cos'è il risparmio? Tenere da parte dei soldi per poi usarne più cose utili. Tu la paghetta ce l'hai? No. C'hai qualche soldino messo da parte? Chi? E come lo utilizzerai? Ma non lo so, poi vedremo in futuro. Che cos'è il risparmio? Come lo vedi tu? Che cosa significa risparmiare? Tenere da parte dei soldi e non sprecarli per cose inutili. E quindi che cosa potresti comprare? Cose utili come da mangiare, da bere.